Soprattutto sono felice per questo gruppo di lavoro, per la società perché io penso che una società che ha investito così tanto e magari riuscisse anche forse arrivare in fondo a vincere qualcosa ti dà più stimoli, magari dà più voglia di costruire ancora più forte la squadra. E poi onestamente questo gruppo di lavoro se lo merita perché hanno veramente tutto lo staff, tutta la società hanno contribuito a questo traguardo così importante. Sicuramente credo che sia il coronamento anche per la squadra di un calcio anche se stasera dobbiamo riconoscere che abbiamo avuto anche fortuna in certi momenti però credo che sia il coronamento di un grande lavoro fatto da questo gruppo di lavoro. Io credo che senza voler essere piageria se non c'era questo pubblico che ci ha incitato fino alla fine credo non so se ce l'avremmo fatta perché la squadra era allo stremo questa sera.